ciao a tutti e bentornati su indie gameplay ita oggi siamo nuovamente su kingdom come deliverance video che gioco che vi avevo già portato in un vlog dove parlavo dell'immersività nei videogiochi in quella sorta di pseudo rubrica dei videogiochi che ci fanno sognare beh ci sto giocando un po diciamo che oltre 30 ore su questo titolo ma mai l'ho portato avanti più di tanto e quindi volevo farvi un altro video un po particolare un video extra dove vaghiamo esploriamo insomma viviamo la nostra vita perché questo è un chiaro esempio di come un gioco può essendo magari di ruolo e quindi di fantasia ma basato fortemente sulla storia quindi senza avere necessariamente draghi e incantesimi può essere assolutamente affascinante seppur basandosi su una storia vera a parte il fatto di poter accogliere qualsiasi cosa voi troviate per strada allora arriviamo da una notte piuttosto complicata ve la racconto un po ve la racconto un po romanzata una notte piuttosto complicata perché sono le 6 di mattina e ho passato la notte qui nella foresta a seguire delle donne perché il prete di questo paese chiamato Uzzit mi aveva detto guarda loro hanno preso una pozione potrebbero essere delle streghe vai nella foresta insomma quello che è successo è stato quasi esilarante devo andare dal prete ma dato che questo vuole essere uno video no spoiler quindi anche se si tratta di una missione secondaria non voglio spoilerarvi nulla voglio raccontarvi guardando questo bellissimo immenso panorama in lontananza voglio raccontarvi quello che vorrei fare in questo video sono cresciuto abbastanza sono di livello 6 e mi stanno salendo un po tutte le abilità sia a livello di attributi sia a livello di battaglia e chiedi abilità varie me la sto cavando me la sto cavicchiando sto imparando anche il sistema di combattimento che devo dire che è molto ostico ma una volta appreso dà le sue soddisfazioni soprattutto la realisticità di questo gioco è basata anche sul fatto che se date una spadata nei denti a un nemico gli fate parecchio male così come anche se decidete di affrontare o comunque vi salta addosso un bandito e voi avete una minima armatura avete un gran vantaggio nei suoi confronti soprattutto se lui vi attacca con una clava e voi con una spada la cosa che mi piacerebbe tanto fare è andare dato che questa è una spada che si chiama scheggia ed è una spada corta mi piacerebbe tanto andare e spendere i soldi che ho guadagnato perché a breve poi vabbè se vi piace il gioco vi farò magari un video dove fare vi spiegherò come ho fatto qualche soldo io comunque il mio obiettivo di adesso è andare a rattai la città una delle città più più grosse più belle che ho visto finora e andare al dalla maiolo e comprarmi la mia prima spada ho messo da parte un po di soldi ho messo da parte circa mille grosken che si chiamano così ne ho 883 c'è ancora qualcosina da poter vendere quindi dovrei arrivare magari a mille soprattutto vorrei anche in futuro comprarmi dei vestiti belli in questo gioco non è banale non è una fantasia personale il fatto di vestirsi bene non solo con un'armatura sudicia come questa ma è importante perché quando voi parlate con qualcuno gli fate avete un valore che l'appariscenza comunque determina il rispetto e l'interazione che questo ha con voi quindi a questo punto io prenderò il mio cavallo salve spero che non mi non mi abbattano nel viaggio anche se sono parecchio parecchio stanco prendiamo e andiamo a rattai potrei andare anche a talmberg però non lo so talmberg mi sembra un po ancora una cittadina dovrei andare anche a visitare queste stelline per prendermi quest comunque guardate la mappa la mappa l'ho esplorata qua all'inizio si viaggia si va di qua poi ci si ritrova qua sotto si esplora mi manca ancora tutta questa città qui che non ho ancora visto e insomma da fare da fare da esplorare ce n'è c'è anche tutta questa zona qui con altre città quindi quello che facciamo ora è andare a rattai usando il viaggio veloce e vediamo che cosa succede via iniziamo è mattina presto adesso inizia sono già le sette di mattina è già un'ora che siamo in viaggio stiamo attraversando i campi dovrebbe magari quando la foresta potrebbe presentarsi qualche piccolo problemino ma c'è anche un'abilità che potete prendere che vi anticipa diciamo quelle che sono le minacce però direi che a questo punto non abbiamo incontrato nulla siamo le nove di mattina siamo po stanchi e siamo a 49 di condizione la sazietà sta scendendo dovremmo andare a mangiare comunque siamo arrivati abbastanza senza problemi perché usare il viaggio veloce il viaggio veloce per quando avete fretta non volete magari perdere del tempo in realtà in questo gioco non è mai una partita di tempo il viaggio perché c'è sempre qualcosa da esplorare qualcuno con cui parlare però in questo caso per il video ho fatto questo viaggio veloce dato che probabilmente è un po più ottimizzato come tempi e quindi non devo star lì a regolare la velocità del cavallo farlo riposare e così via ormai mi sento a casa in questa città benché io non abbia un alloggio ma debba dormire o alla locanda o per esigenze di storia dal mugnaio sto anche frequentando la figlia del mugnaio che è una ragazza che abbiamo salvato nella nostra città iniziale andiamo dall'armaiolo armaiolo che se non ricordo male dovrebbe essere qui salve è lei che fa armi o fa solo armature lei è il corazzaio mi sa che non fa armi lui parliamo di affari armi no mi vende solo scudi mi piacerebbe tanto uno scudo mi dico la verità però no no al momento no credo che sia da questa parte l'armaiolo credo sia qui no questo non no fosse questo fosse questo no qua sono tessuti per cavolo e fosse qua sopra no qua c'era l'ingresso del ufficio del balivo della città una sorta di di sindaco di maio aia no devo capire dov'è il l'armaiolo allora a questo punto l'armaiolo è di là ok ok salve salve buongiorno l'armaiolo è qui eccolo qua eccolo qua abbiamo trovato andiamo dentro ci stava guardando dalla finestra ci ha visto arrivare perfetto spada da caccia vediamo un attimo se possiamo permettercela salve io arrivo da lontanissimo e vorrei comprare una spada me la incarta o me la incanta allora armi vediamo un po' ago costa 408 è una spada corta io voglio una spada lunga assassina spada lunga forza minima 2 devo sempre fare attenzione con i parametri lì allora che fa danno 52 che non è male perché l'arma che abbiamo adesso vediamo falcione è una spada da caccia gagliardina è una spada corta abbiamo le ci chiede forza 7 non l'abbiamo spada borghese forza agilità minima 5 guardate quante ce ne sono spada del paggio spada corta e fa 48 però questo qua il danno no voglio vedere che cosa fa più danno di tutte così che le metto in ordine questa è una gran comodità spada di erode non la potremmo mai equipaggiare la spada di erode ma forza 10 infatti poi una spada lunga no il rasoio spada corta no fendi anime mi piace molto però forza minima 6 cresta di gallo 5 spillo spada lunga ok fa danno 54 ma anche l'assassina non è male danni 38 52 2 parate fendenti non sono le sue migliori caratteristiche lama affilata forgiata per colpire con fendenti il peso aggiuntivo ok prezzo 173 209 mannaia no salvata dice una spada lunga che però fa meno danno però mi sembra più bilanciata stoccata e fendente fa danno 52 mai mentre a me ostentare la propria prevenenza sociale indeni abilità in combattimento questo è il mio spada lunga che un aristocratico caduto in disgrazia possa permettersi di spadecini più abili ne ricavano notevoli soddisfazioni ma i novizi tendono a smussarla in breve tempo perché la lama si compone un materiale per nulla pregiato non lo so prendo la salvatrice dai la mia la mia spada è più bilanciata come danno più che altro perché mi piaceva l'assassina però fa un danno più basso adesso io voglio vedere la scheggia fa 43 e fa 35 43 no voglio più che altro perché è importante avere una spada lunga e non una corta perché le abilità che prendete a sbloccare imparandole con con i livelli è importante perché si abilitano e sono utilizzabili solo con l'arma giusta quindi c'è anche ago spada corta no dai prendo la salvatrice me l'ha in carta me la mette nella cesta ok io vorrei vendere qualcosa la sposa del mercenario è una spada corta che fa un buon danno però gliela vendo così però vende anche il finale poi posso vendere solo armi quindi potrei vendere anche scheggia ma scheggia è un'arma rubata quindi no c'è sta compriamo questa ok contrattiamo io le dovrei le dovrei 215 facciamo 205 ok mi è andata bene subito ho tenuto reputazione bene ora andiamo a disequipaggiare la vecchia arma scheggia e prendiamo la salvatrice adesso a questo punto dato che siamo così sotto questa pioggia andiamo al corazzaio e ci compriamo anche un bello scudo e non vedo l'ora di sfoderarla ma qua in città non è una grande idea salve signor corazzaio a mi può anche addestrare vediamo un po ai parazioni quanto mi costa 60 un'altra volta perché adesso vi faccio vedere potete anche riparare le armi allora scudo decorato vediamo se ce lo possiamo permettere sì forza minima ok però sono belli anche questi scudi qua mannaggia 900 vediamo un po mi dà il peso 9 solidità 38 difesa 98 difesa 115 lo scudo decorato 239 dai lo compriamo posso vendergli qualcosa ovviamente l'anello di bianca non lo vendiamo perché non ricordo di taramai non ho intenzione di venderlo voglio controbattere dandogli qualcosina che che ho preso magari per ripagarmi un po il i vambarci mi servono vabbè dai cesta contattiamo let's talk about the price vediamo 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 ti devo 85 guarda facciamo 75 perfetto perfetto e ora equipaggiamo anche lo scudo abbiamo inizio a prendere forma il nostro errore me lo mette nelle armi scudo ok siamo adesso in super forma super formissimo perché possiamo essere minacciosi posso lavarmi e vorrei andare a vedere anche se ho dei vestiti da poter prendere magari belli da da poter sfoggiare con con i nobili e questo chi è il sarto questo è il commerciante a lei vende lui sa cuce parliamo di affari vediamo un po abito elegante molla madonna se costa vediamo un po eh sì questo è proprio bello però sembra quasi più da donna quindi caffettano decorato vediamo un po eh questo è bello ma non riesco a capire se effettivamente sia qualcosa che a questo non posso metterlo calotta imbottita e anche la calotta imbottita non mi dispiacerebbe prenderne una un po più bella eh perché adesso ne ho una calotta imbottita che mi dà 9 di protezione e io ne ho una calotta imbottita che mi dà tarea quindi direi che potrei acquistare la calotta imbottita calotta imbottita no magari non ne compro 9 ah una una c'è certo che sono veramente pirla poi vediamo se c'è qualche farsetto farsetto verde sarebbe da capire ah come mi stanno queste non posso metterle no mi piacerebbe vedere come mi sta camicia di rosso vediamo se mi da qualche ah ok questa è la visibilità e l'appariscenza mi darebbe comunque un buon vantaggio mi darebbe comunque una buona appariscenza questo 66 non è male ma penso che per questo aspetteremo mi compro la calotta imbottita che vado a contrattare subito ma allora facciamo 150 dai dai 155 la chiudiamo perfetto adesso la montiamo subito calotta imbottita ok adesso siamo comunque abbiamo un aspetto un pochino più umano adesso io mi metto qua in un angolino voglio vedere come come mi sta ho lo scudo ho la possibilità di parare bellissimo i guanti sono un po' rovinati in effetti perché sono guanti del cacciatore quindi mettiamo via la spada bella bella pulita potrei anche pensare di andare ad affilarla ma al momento non non ce n'è bisogno tuttavia bisogna ricordarsi che quando un un'arma non è affilata insomma deve essere appunto passata alla mola perché sennò perde efficienza quindi che cosa abbiamo fatto in questo breve viaggio abbiamo fatto appunto siamo arrivati a cavallo dalla città dove eravamo e dove adesso io tornerò perché devo continuare la storia devo continuare le secondarie ci sono anche altre missioni che devo fare anche a Thalberg siamo venuti fino a Ratte siamo tornati a Ratte ora ne approfitterò senza fretta perché le pause nella storia ve le imponete solo voi non è che se vi mettete a seguire la quest non avrete tempo di fare niente vi ritroverete alla fine del gioco in un attimo non è vero nel senso ci vogliono un tottore però beh giusto per rendervi l'idea ora devo continuare anche la quest della conoscenza della di Teresa la nipote del mugnaio o figlia non mi sa che nipote e quindi tornerò al mulino da lui da lei e poi una volta che avrò finito la quest tornerò nuovamente su per continuare l'avventura e magari me lo farò anche a cavallo per esplorare un pochino comunque ci sono ancora tante cose da tante cose da esplorare e un'altra delle cose che vorrei fare qua dovrebbe esserci tipo un crocevia con un locanda che acquista la selvaggina quindi mi comprerò delle frecce e devo pensarci ora adesso perché credo che da queste parti in pochi vendano roba di questo tipo se non a Talberg frecce e poi mi avventurerò nei boschi sperando di non trovare banditi perché qua ci sono ci sono gli accampamenti dei banditi andrò a cacciare un po' di lepri ho sbloccato anche un'abilità molto interessante qua in caccia caccia che mi consente di raccogliere le corna quindi poi si potranno andare a prendere altre cose altre abilità fino a diventare bravi a salare quindi i cibi si guastano cioè dimarciscono più lentamente posso fare posso mangiare diciamo carne e caruda senza averne il mal di pancia far più danni riuscire a conciare anche le pelli scuoiarli e quindi andare a generarmi parecchi soldi andando semplicemente a caccia e voi potrete dire è un game changer? no diciamo un cheat un trucco? no semplicemente perché prima di tutto dovete farvi un paiolo a cacciare e seconda cosa la caccia potrebbe già essere ereditizia così ma valutate la cosa che tanta gente non ha un soldo qui io ho avuto la fortuna di farne un po' di iniziare ad essere uno dei favoriti del signore di di Talberg e questo è quel quid diciamo in più che viene dato al nostro personaggio e quindi abbiamo una spada cosa che nel medioevo nessuno aveva se non le guardie o i signori più ricchi e questo mi dà già un'ottima opportunità che devo sfruttare quindi magari tanti possono dire no il gioco è difficilissimo non si fanno soldi non riesco a comprare niente in realtà i mezzi vi vengono dati da subito quindi qua c'è tra l'altro anche un usuraio che dovrei anche andare ad alleggerire un po' tra l'altro potete anche ho rubato potete anche prendervi dei dadi truccati per andare a giocare ai dadi e ora prima di chiudere vorrei andare un attimo alla locanda perché ho fame ed è una di quelle cose che spesso nei giochi tipo Skyrim così vi imponete di fare ma che non servono a nulla nel gioco in realtà qua servono e come perché se andiamo su giocatore ed effetti abbiamo una stanchezza e la fame quindi a questo punto andiamo qui e magari mangiamo vediamo se la ragazza della beneria ci può vendere qualcosa generalmente mangio spizzicando in giro dalle varie cose però mamma l'anatar arrosto costava una fucilata mi compro non lo so guardate io mi sento ricco mi compro un'anatar arrosto e me la mangio a cesta contratta no te la compro a 15 dai l'anatar la vediamo dai me la dai a 15 no si potrebbe offendere 15 e mezzo dai facciamo 16 grazie vediamo ora quanto andrà a riempire la sazietà abbiamo 50 mangiamoci l'anatar arrosto 76 76 neanche tantissimo c'è qualcosa che mi fa perdere abilità in dialogo ma devo capire che cos'è magari la tunica tutta sporca forse vediamo un attimo vediamo qua bellissimo potete metterli in ordine quindi vedere cosa avete equipaggiato il gamberson è leggero mi toglie forse uno di dialogo perché è danneggiata quindi vediamo un po' condizione 25% posso ripararla no però se io la tolgo no perdo anche il carisma no diciamo che c'è qualcos'altro che mi fa perdere dialogo il bacinetto comune no guanti da cacciatore forse no cupitiera piastre il camaglio no il camaglio l'ho trovato in giro calza braca oliva no devo capire cos'è che mi sta facendo perdere quelle opzioni di fasce solettate scure no perché mi guardano le scarpe no non riesco non riesco a capire non riesco a capire cosa mi fa perdere la camicia verde no 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 le ho tolte tutte ormai non non ho niente vabbè ci studierò bene abbiamo mangiucchiato ora vabbè si può anche andare dove si trovano magari dei cibi e mangiarli salve cittadino e ora è tempo di richiamare il cavallo e andare eccolo che arriva eccolo qua è tempo di andare dal muniaio ragazzi vi ho fatto fare questo piccolo breve viaggio insieme a me per farvi scoprire altre meraviglie di questo kingdom come deliverance che mi sto giocando assolutamente senza nerdare senza esagerare perché me lo gioco quando ho voglia di entrare e portare avanti la storia del mio personaggio di Henry non vedo l'ora anche che riesca al 2 infatti questo lo vorrei almeno arrivare a finire senza rispolparlo del tutto insomma che comunque da fare ce n'è bisogna sempre fare attenzione a non rompere i giochi di questo tipo perché ok potete rapinare però borseggiare però bisogna sempre fare attenzione a non uccidere così infatti io provo a borseggiare e poi se fallisco ricarico la partita so che è un cheat però mangio dalla pentola e un'altra cosa che voglio dirvi è di scaricarvi se vi va io ho scaricato un'unica mod per questo gioco e che è quello che annulla l'esigenza di usare la grappa del salvatore per salvare la partita in pratica io adesso posso salvare in qualsiasi momento che comunque mi sembra una cosa assurda usare la grappa soprattutto perché se fallite se fate delle cavolate non potete ripartire subito ed è una perdita di tempo alla fine vi passa la voglia se comunque andate provate a borseggiare qualcuno ma neanche necessariamente un poveraccio che trovate in giro ma quello che sapete essere l'usurario della città volete andare a rapinarlo non ce la fate e avete salvato la mattina e dovete rifarvi tutto il giorno non ha senso per me comunque lì sotto ci sono dei campi niente da qua scendiamo adesso ormai conosco conosco la zona ho mangiato sono a sazietà 100 sono solo un po' stanco quindi è mezzogiorno quindi magari andrò a dormire o mi intratterò un pochino in giro farò un po' di un po' di esplorazione salve buongiorno e basta e poi e poi tornerò nella mia città iniziale dove continuerò e andrò a dire al parete quello che ho visto durante la notte vediamo magari se potrò salvare la vita quelle poveracce che ho beccato in mezzo alla foresta ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video di questo viaggio insieme noi ci sentiamo al prossimo video game play alla prossima ragazzi e ciao ciao ciao